importante, solo se ci sarà un grande coinvolgimento delle regioni. E da subito, perché ogni regione ha una sua organizzazione, ha una sua visione, ma globalmente io ritengo che possa essere accettato anche la rete che c'è all'interno stessa delle regioni come punto di partenza in riferimento a quello che può essere la strutturazione stessa, cioè di un'attenzione importante. Penso che sia una buona pagina che il Parlamento sta scrivendo oggi, perché hanno qualche chance in più questi soggetti affetti da grave disabilità non autosufficienti di non essere ce le lasciate soli. Non abbiamo la certezza di risolvere completamente il problema, però qualche chance in più sicuramente ce l'hanno. Per questo vede il nostro grande e convinto favore. E voteremo sì per questo. Grazie. La ringrazio, collega Palese. Adesso il collega Achille Totaro. Prego. Grazie, Presidente. Colleghi e rappresentanti del Governo, il gruppo di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, si appresta a votare favorevolmente questo provvedimento che, come è stato detto in quest'Aula, colma un vuoto legislativo e un vuoto civile che ormai durava da molti anni. Sono tantissime le famiglie che chiedevano questo intervento da parte dello Stato, perché è molto presente in tante famiglie italiane, e parliamo di centinaia di migliaia di persone, la grave situazione di una persona disabile, giovane, da accudire, di genitori anziani che domani non ci saranno più e non sanno come sarà il futuro dei loro figli che hanno assistito per tanti anni, che hanno semmai problemi cognitivi, problemi che li rendono disabili e non in grado di sostenere al proprio futuro da soli. Quindi sicuramente questa è una legge che noi voteremo. È un principio, non è soltanto l'inizio di un percorso, secondo noi, perché sicuramente il problema della disabilità in Italia, il problema degli anziani anche non autosufficienti e di tutte le non autosufficienze che ci sono nelle società occidentali in Italia saranno sempre di più nel corso degli anni, perché è aumentata l'aspettativa di vita anche da parte di queste persone e quindi ovviamente saranno sempre di più i problemi all'ordine del giorno in questo senso. Quindi sicuramente è un punto di partenza. Vanno reperiti i fondi, di più di quanti ne sono stati reperiti per questa legge, perché sicuramente serviranno. Quindi noi non sappiamo se questo servirà a risolvere questo grave problema che attanaglia molti nostri concittadini, però sicuramente è un punto di partenza. Noi non potevamo far mancare il nostro appoggio. Vedete, ci sono delle leggi e ci sono delle questioni come quelle che noi stiamo affrontando noi oggi in quest'Aula, che spesso quest'Aula, non dico spesso, ma insomma quasi spesso, si attanaglia e si confronta su cose a volte non proprio di primaria importanza, a volte ci si accapiglia qua dentro o ci si arrabbia per cose anche di secondaria importanza. Però queste sono questioni secondo me che devono esulare dalla polemica politica. Non si può fare polemica politica su una legge del genere e non si può fare strumentalizzazione politica. Io ho sentito il dibattito in quest'Aula anche parlare di questioni anche reali, di problematiche reali, signor rappresentante del Governo, che ci sono in questa legge, perché sicuramente il problema del passaggio e dell'intervento del privato, sia esso i fondi lasciati dai familiari, sia gli interventi, diciamo, anche di società non profit o di associazioni non profit per quanto riguarda il futuro di queste persone, sicuramente si presta, diciamo, a interpretazioni e capisco anche le problematicità. Se portate, diciamo, con un atteggiamento propositivo di qualcuno in quest'Aula che ovviamente ci ha detto controlliamo. Bene, io dico lo Stato esiste anche per fare dei controlli. Purtroppo in questa nostra nazione, a vari livelli, si sono fatti e si è instaurato un clima per cui si registrano le telefonate di tutti, si perdono nelle istituzioni tempi memorabili e soldi per registrare le conversazioni private di molti che semmai non portano nessun intervento di carattere penale e non si controllano cose ben più importanti. Questa è una cosa importante. Le istituzioni le devono controllare. Chi si adopererà per gestire questi fondi, sia privati che pubblici, devono essere controllati perché se ovviamente non ci saranno più i genitori di queste persone e loro non saranno in grado di controllare questa situazione, ci deve pensare lo Stato, ci devono pensare le istituzioni, ci deve pensare il pubblico. Se il pubblico non basta per gestire questo problema è logico che si intervenga con soldi privati, però ci deve essere il massimo controllo. Ecco, in questa ottica noi voteremo a favore di questo provvedimento. Il gruppo di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale non farà mancare il proprio sostegno perché questa è una legge che chiedono moltissime persone che hanno un problema nella propria famiglia, che vivono il dramma familiare nelle loro mura domestiche, che molto spesso sono anche persone che non hanno grandi risorse finanziarie e che hanno semmai la casa di proprietà, pochi averi e hanno veramente l'incubo del domani per i pigli che lasceranno e che non avranno l'assistenza. Noi non possiamo far mancare il nostro voto favorevole, questo è un argomento che non si presta a strumentalizzazioni o a maggioranza e opposizione, quindi noi voteremo a favore di questa proposta di legge. Grazie. Grazie, collega Totaro. Adesso il collega Marazziti, prego. Grazie Presidente. Colleghi, è sempre una bella giornata quando, magari dopo tanti anni come accade oggi, una legge riesce a togliere angoscia, a restituire un sorriso, tranquillità a migliaia di famiglie e alla fine a milioni di persone, a chi non conta. È una bella giornata quando si liberano i prigionieri e quando finisce una guerra, quando si restituisce vita, futuro, dignità, indipendenza e serenità. Un diritto garantito dalla Costituzione all'articolo 3, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 19, che sancisce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone, diventa un diritto pieno in Italia per i disabili gravi e le loro famiglie, poveri e ricchi.